I amici ben trovati, buon avvento, siamo qui a iniziare questo percorso che come tutti gli anni ci porta verso Natale, un percorso che inizia in compagnia quest'anno di Matteo, abbiamo salutato Luca domenica scorsa e che ci riserva molte sorprese. L'avvento di solito significa subito guardare al Natale, in effetti basta girarsi per le nostre città per vedere che nonostante la crisi un po' di speranza c'è, ci sono qualche addobbo, l'altro giorno passavo per Verona, c'è già un gigantesco e bellissimo albero di Natale e poi basta guardare le pubblicità per capire che siamo ormai vicini al Natale, tra 4 settimane e poco meno, oggi primo dicembre fa 25 giorni, sarà Natale. Non so voi, ma mi mette sempre un po' in crisi l'avvento, riflettevo prima passeggiando, anche se oggi qui fa piuttosto freddo a causa del vento, mi interrogavo su me stesso, dicevo Paolo quanti avventi hai fatto nella tua vita, poi ovvio quando uno è bambino non ci pensa tanto, ma poi dopo qualche anno insomma diventa grande, diventa consapevole. Allora mi chiedevo se davvero fosse cambiato qualcosa all'interno della mia vita oppure se tutto sommato ero sempre lì a vivere una Natale dopo l'altro, a subirlo un po'. Ripeto un po' le cose che dico tutti gli anni e chiedo scusa ma penso che un orizzonte di fondo ci voglia, cioè che non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce, Gesù è già nato nella storia e tornerà nella gloria, in questo tempo di mezzo ci siamo noi, allora siamo qui a chiederci se Gesù è nato e rinasce nei nostri cuori, perché come scrivono bene i padri della Chiesa possiamo celebrare mille Natali senza che mai veramente Cristo abiti i nostri cuori, nascano i nostri cuori e per me poi in particolare mi chiedevo, io mi definisco credente o perlomeno cercatore di Dio, ho già accolto la fede e cerco di coltivarla dentro di me e rischio appunto quello di sedersi un po', di dire so già, anzi mi sento un po' migliore rispetto a quelli che poi alla fine della fiera non riescono tanto a cogliere il significato del Natale, allora c'è un po' questo comportamento snob, ma proprio noi corriamo il rischio un po' come i sacerdoti del Tempio che sanno della nascita di Gesù, sanno anche dove nasce, ma alla fine non si lasciano toccare il proprio cuore, insomma tutto questo per dire amici che soprattutto in questo tempo di profonda crisi, crisi economica, ma mi permetto di dire soprattutto crisi di significato, crisi di desiderio, crisi di speranza, in settimana sarò a Napoli e poi a Catania, ma a Napoli in particolare incontrerò fratelli e sorelle che abitano nelle cosiddette terre dei fuochi, questa zona completamente distrutta dalla bramusia, dalla follia di chi lì ha sotterrato tonnellate di rifiuti tossici che stanno avvelenando l'acqua e l'aria e stanno creando una epidemia ormai riconosciuta e richiamata. Come portare speranza in questi luoghi, come avere speranza laddove l'uomo è diventato un po' disincantato, un po' ferito, un po' amareggiato, un po' cinico ed è quello che respiriamo tutti i giorni, dalla politica all'economia a quando siamo in strada. Ecco perché abbiamo bisogno di avvento, ecco perché abbiamo bisogno di un tempo in cui dire che il Signore nasce, che Dio non si è stancato degli uomini, che non siamo qui a celebrare la morte dell'umanità, ma siamo qui a celebrare la nascita di Dio ed è l'uomo che rinasce se vuole, è l'uomo che rinasce se si lascia toccare nel profondo da quella che è la parola. Il Vangelo di oggi allora si orienta su questa sveglia, su questo forza, coraggio, alzati, siamo qui in attesa del ritorno del Messia ma a lasciare nascere Cristo dentro di noi e così nella prima lettura il profeta Isaia, il grande profeta Isaia osa immaginare ciò che era inimmaginabile, cioè una folla di tutti i popoli che salgono a Gerusalemme, che salgono a celebrare il Dio di Israele. Possiamo chiederci se dopo duemila anni qualcosa è cambiato, possiamo chiederci se il cristianesimo ha veramente cambiato la storia, all'apparenza sembra non tanto, nel senso che sì per carità ha segnato il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra mentalità, ma è una continua battaglia, là dove il Vangelo riesce a erodere con senso alla tenebra, la tenebra si riprende un po' il terreno. Pensate per esempio al Natale come ahimè è stato un po' svuotato di ogni significato, allora io non sono un talebano, lo sapete, quindi fate l'albero di Natale, fatevi regali, però invitiamo il festeggiato a questa festa di compleanno perché è il grosso rischio paradossale di fare una magnifica festa di compleanno scordandoci l'invitato. Isaia allora osa immaginare, osa pensare, guardi in avanti, guardate quando Isaia scrive, sapete che il libro di Isaia è scritto da tre autori diversi in tre fasi diverse, quando il brano che abbiamo letto viene scritto, Israele sta vivendo un periodo peggio del nostro, un piccolo paesello strattonato dai grandi, gli assili da una parte, gli egiziani dall'altra, poi arriveranno i babilonesi a radere al suolo tutto e a volte abbiamo un po' questa impressione di quest'uomo che non impara, di quest'uomo che non impara, dell'uomo che non riesce ad andare d'accordo eppure qui dentro la parola di Dio arriva prepotente e ci sprona, è possibile cambiare, è possibile migliorare, è possibile andare oltre, è possibile lasciare che Dio faccia dentro di noi ciò che egli deve fare. E così allora il Vangelo di Matteo, riprendendo un po' il Vangelo di due domeniche fa nella versione di Luca, con questo linguaggio chiamato apocalittico, prova un po' a immaginare non la fine del mondo, ma il fine del mondo. Ed è bellissimo perché richiama i tempi di Noè, sapete questo bellissimo racconto, tra l'altro presente in molte altre culture e religioni in cui si parla di un diluvio universale, probabilmente sostengono alcuni storici memoria di qualche evento climatico terrificante che ha colpito il bacino del Mediterraneo, ma questo che è importante è la chiave di lettura, cioè che mentre gli altri irridevano Noè che costruiva una barca in mezzo al nulla, Noè aveva capito. Qual è la barca che ci stiamo costruendo? Anche se gli altri ci ridono, anche se gli altri dicono che non è possibile cambiare, anche se gli altri dicono che alla fine della fiera non possiamo farci nulla. Può essere la barca della fede, riprendendo Marco, può essere la barca della speranza, può essere il piccolo gruppo in parrocchia, può essere l'oratorio che abbiamo riaperto, può essere la meditazione che faccio ogni settimana strappandola ai denti, quel quarto d'ora che mi aiuta a galeggiare. In questo caso Matteo dice una cosa che trovo molto molto bella, cioè il fatto di invitarci a essere presi. Noi leggendo questo Vangelo verrebbe da dire, no no Signore lasciami, due alla macina, uno viene preso e lato lasciato, due nel letto uno preso e uno lasciato. Io invece oggi prego Signore prendimi, prendimi, non lasciare che la vita mi anestetizzi, non lasciare che le sofferenze della vita mi incubiscano, non lasciare che i problemi che stiamo vivendo mi allontanino dall'essenziale, che sono un cercatore, che ho un'anima, un'anima bella, splendente, che devo coltivare e far crescere. Ecco allora che questa prima domenica è tutta indirizzata a far sì che la nostra vita sia orientata, sia sveglia. Qualcuno di voi mi dirà, Paolo tu non sai come vivo io, corro come umato tutto il giorno, appunto, è il modo migliore per addormentarsi e anestetizzarsi. Non lasciamo che lo scoraggiamento, non lasciamo che la sofferenza, non lasciamo che la pigrizia, non lasciamo che il ritmo di vita ci impediscano di attendere, di attendere Cristo che chiede continuamente di nascere in noi. Solo in questo mondo allora con questa speranza forte a cui siamo richiamati nel Vangelo di oggi potremo prepararci a un Natale vero, a un Natale denso, un Natale straordinario, un Natale in cui davvero Cristo possa nascere in noi. L'augurio che vi faccio in questa settimana è proprio questo, che facciamo spazio, che lasciamo che sia il Signore che aspettiamo a vibrare nella nostra vita. Buona domenica! Buona domenica! Grazie a tutti.